Il secondo giorno delle Olimpiadi di Parigi ha visto protagonisti gli sport femminili con le prime partite di calcio e palla a mano. Il Canada, medaglia d'oro a Tokyo 2020, ha sconfitto la Nuova Zelanda in rimonta per 2-1 dopo lo scandalo dello spionaggio che ha visto due membri dello staff canadese tornare a casa. A Lione la squadra di calcio femminile francese ha eguagliato la vittoria maschile di mercoledì battendo la Colombia per 3-2 mentre i campioni del mondo in carica della Spagna hanno sconfitto il Giappone per 2-1. I padroni di casa hanno anche vinto la partita inaugurale di palla a mano con uno stretto margine di 3 gol sull'Ungheria alimentando le speranze di un secondo oro olimpico consecutivo. Nel rugby a 7 maschile la Francia ha battuto l'Argentina nei quarti di finale per 26 a 14. I francesi saranno raggiunti nella prossima fase da Sudafrica, Fiji e Australia. I francesi saranno raggiunti nella prossima fase da Sudafrica, Fiji e Australia. I francesi saranno raggiunti nella prossima fase da Sudafrica.